ciao a tutti amici benvenuti in questo tutorial di photoshop cc 2015 diciamo che vi voglio far vedere le nuove feature perché io per molto tempo sono rimasto a photoshop cs5 e il 6 l'ho provato ma non mi è piaciuto però il 5 troppo vecchio voglio cambiare allora ho deciso di fare il trial con photoshop che 10 dollari al mese mi dà light room e photoshop cc quindi ho deciso di fare così comunque ci sono alcune feature di photoshop che vi voglio illustrare vabbè iniziamo da questa immagine qui vi voglio far vedere che hanno aggiunto questa funzione qui che è il focus area serve per fare una selezione in base al al fuoco cioè questa era in fuoco questa non era in fuoco e quindi riesce a fare una selezione non è esattamente super precisa però poi usando refine edge possiamo andare a usare smart radius che era già una funzione presente nel photoshop prima cs6 anche 5 mi sa ecco abbiamo la nostra selezione facciamo copia incolla possiamo metterlo di qua tac quindi invece di andare a fare una selezione classica tipo col quit tool qui andare qua girare qua girare lì possiamo provare questa con funzione qui del focus area vabbè in questo caso diciamo che si poteva anche utilizzare il tool per spostare gli oggetti con il content aware quindi basta prima di tutto cancelliamo andiamo su qui questo robino qui non ce ne frega niente quindi schiacciando il tasto cancella e avendo il content aware lo possiamo semplicemente cancellare qualcosa questa è una funzione già presente in cs5 quindi non è una novità però abbiamo anche questo anche questo questo c'era comunque facciamo la nostra selezione al fiore non mi piace qui lo voglio qui e voilà se diciamo che se uno sa capisce che c'è qualcosa di strano in questa foto però questa è una delle funzioni molto belle di photoshop comunque entriamo nel vivo con un'altra funzione nuova di cs cc un'immagine ho trovato un'immagine migliore comunque abbiamo qui innanzitutto come ho fatto vedere precedentemente non ci piace questo pezzo di macchina allora ce lo facciamo un content aspetta abbiamo due livelli ok non male non male guardate come ha ricreato questo perfettamente funzione già presente in altri photoshop ma magari qui l'hanno un po' migliorata poi abbiamo qui hotspot healing voglio mettere un po' a posto qua ecco ecco queste macchie d'olio non ce ne frega niente questo non ce ne frega niente ok 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 amici ma non lo so mi sembra che questo paletto non mi piace in questa posizione questo segnale lo voglio spostare qui e qui invece è molto veglio ok perfetto perfetto va bene amici amici c'è questo che è un po' messo male eh option click no questo questo oh adesso si che è perfetto comunque quello che vi voglio far vedere è che allora è una nuova funzione del path blur e si usa principalmente con le automobili perché allora innanzitutto dobbiamo fare una maschera dobbiamo selezionare l'immaginetta che cosa che ho già fatto con i metodi che sapete l'ho fatto abbastanza veloce no poi andiamo a agire sul background togliamo la maschera non ci interessa allora nuove funzioni sono sotto filtri eh blur gallery path blur praticamente noi vogliamo fare far finta che questa macchina è in movimento allora invece prima precedentemente potevamo usare il motion blur però era un filtro un po' vecchio un po' fatto male questo qui è invece molto più bello perché possiamo interagire sulla direzione di questo di questo sfocato in più ne possiamo anche mettere un altro quindi questa è una funzione molto bella perché ok poi non è finita qui amici perché possiamo andare a mettere anche uno spin blur alle ruote anche questa è una cosa che si poteva fare precedentemente però molto meno così def molto meno facile che dovevamo fare una maschera circolare allora adesso mettiamo lo spin invece così possiamo selezionare molto semplicemente ok andiamoci più vicino allora porca trottola ah si ok abbiamo piccolo abbiamo fatto un piccolo sbaglio amici allora facciamo ok 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 perché abbiamo possiamo vedere che qui l'ha fatto ma eravamo sul livello tutto sfocato dobbiamo andare interagire sul nostro livello principale della macchinina quindi ritorniamo in blur gallery andiamo in spin blur ci mettiamo ok poi andiamo vicino che la gente che io vedo che gioca spadaca from photoshop va sempre a fare tutte le cose da uno zoom tutto grande che non riesce a fare un cavolo non sta sulle pali oh allora vogliamo un po' di zoometto cioè non vogliamo fare così che fa cagare si vede che è finto un po' così sinceramente vabbè non cambia niente io ci avrei dato anche una direzione no che fa vedere no al fine non cambia niente a meno che c'è una vista molto bella ok poi se ne vogliamo creare un altro ok sinceramente non ho capito bene questi tondini dentro forse è dove e sinceramente non riesco a selezionare oh c'è una misura c'è una misura che non si può andare allora utilizziamo ok ok amici torniamo noi ecco la nostra immagine si vede che è finta però vi da l'idea che potete fare questi motion brush ok adesso l'ultimo project l'ultima funzione forse la funzione più bella è la seguente allora Photoshop ha introdotto nella nuova versione gli artboard 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 possono essere usati per vari modi però una delle funzioni molto belle è per fare siti web allora quindi noi iniziamo subito con un artboard di per un sito web 124768 anche se la risoluzione adesso anzi la facciamo come farei io farei un bel 1600 per 1000 perché 1600 così hai più spazio per il background però poi alla fine alla fine insomma il sito sarà 1170 per quello che viene allora ci inseriamo il nostro logo logo melato abbiamo abbiamo un contenuto cioè abbiamo un'immagine classica tac sinceramente io Photoshop 6 l'avevo utilizzato e non mi era piaciuto che adesso per i colori devi spattaccare qui un po' come illustrator e qui invece non si riesce più ah si riesce ancora ok ok amici 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 se non lo sapessi però no hanno messo anche queste nuove funzioni queste smart guide molto simili a in design ok molto utili se dovete duplicare vari oggetti adesso vi faccio vedere in questo esempio tipo se dobbiamo vi fa esattamente la 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 stessa dimensione questo mi piace ok abbiamo il nostro sito web adesso però dite ah però io sono uno di quei grafi design troppo bravi ma c'è che addirittura facciamo il design del sito responsive o sito mobile cosa che io non lo faccio mai io faccio il sito web poi dopo lo faccio allora logo in centro questo più grande non è che da photoshop mi immagino come verrà allora per fare ciò però se siete dei propri cioè se siete veramente bravissimi e pagatissimi soprattutto allora potete farlo praticamente dovete inserire un nuovo artboard la cosa bella è che eh adesso abbiamo abbiamo un iphone iphone 6 ok artboard 2 praticamente avrete due documenti sullo stesso documento e questo è molto bello innanzitutto salviamo sito web ok potete notare che questo è a dimensione reale quindi uno dei problemi tipici che quando si fa il sito responsive per iphone è che il logo rimane sempre a bassa risoluzione perché siccome sull'iphone la risoluzione è praticamente il doppio allora dovreste creare un secondo logo a risoluzione doppia e lo potete fare in questo modo che adesso vi faccio vedere oppure io la mia tecnica è che il logo lo faccio più grosso per tutte e due olè giustizia fatta allora abbiamo il nostro logo lo selezioniamo per selezionare potete premere command o alt un pc no non so come sul bicicolo mela schiacciate mela poi vedete che automaticamente si seleziona il layer oppure tasto destro per selezionarlo anche questo è molto comodo comunque mela poi tasto option per trascinare e copiare mettiamo che il nostro sito responsive è così però lo vediamo un po' più grosso lo vogliamo bello così lo vogliamo così oh solo la mela poi dopo vabbè ci possiamo schiaffare questo vogliamo il contenuto aspetta non l'ho schiacciato bene zuc vediamo così il contenuto così basta che ci sia la mela a posto che sito web vuoi va bene fin qui avete recepito tutto possiamo vedere qui che abbiamo i due artboard possiamo che selezionare mettiamo qui phone qui desktop adesso una funzione molto bellina che sinceramente non l'ho ancora provata mentre faccio un sito web però praticamente allora innanzitutto se andiamo qui vedremo che non abbiamo più il pannello safe for web cioè ce l'abbiamo ma sotto export safe for web quindi state tranquilli amici questa bellissima funzione per salvare ottimizzato c'è ancora e questo si usa usando le slide bisogna fare una slide qui se io voglio fare tipo il logo devo creare una slide a volte si cerca di fare proprio pixel perfect vicinissimo dipende cosa volete fare però adesso c'è questa funzione nuova che ha delle potenzialità ma non so se mi piacerà al 100% o mi piacerà il pomodoro come si suol dire in questi termini allora praticamente selezioniamo il nostro layer abbiamo qui il nostro layer praticamente amici siccome adesso è uno smart clip object non si può fare però si può fare in questo modo fate una cartella e dentro questa cartella ci può essere tutto quello che volete la cartella la rinominate come logo punto png tac dovete andare essere sicuri che avete image assets abilitato e adesso come per magia photoshop automaticamente vi creerà l'immaginetta qua schiacciando logo png in questo modo potete andare in questo qua adesso perché siccome è uno smart audio non si riesce a rinominare quindi lo rasterizziamo e invece di questo apple qua ci schiacciamo logo retina insomma o 2x non lo so e facciamo png tac andiamo e voilà logo fatto tra l'altro è un png quindi è automaticamente trasparente quindi se andiamo a facciamo una prova no tra l'altro possiamo anche fare una prova vedete adesso abbiamo questo voi direte se io avevo creato cioè adesso ti esporterà questo con questo sopra no non esporter rimane sempre così se noi però andiamo a modificare il logo facciamolo inverso dovrebbe automaticamente crearlo olè perfetto quindi se tipo avete creato avete già esportato però avete fatto una modifica al logo automaticamente vi fa tutte le cose poi nel nostro caso invece qua che abbiamo creato una cartella praticamente in questo caso sì se voi andate a metterci qualcosa sopra dovete mettere una cartella adesso siccome il logo verrà di questa cartella dovrebbe essere tutto ecco questo è il nostro luogo nuovo tra l'altro come potete vedere ha fatto tutto praticamente fa esattamente la grandezza delle immagini quindi adesso mi immagino che avrà fatto un'immagine così grossa quindi diciamo che c'è buone punze all'età tra l'altro adesso ci sono un sacco di comandi che non vi sto a dire anche perché non me ne ricordo però tramite queste piccole rinominazioni della cartella o dei file potete creare icone potete dire tutte le immagini hanno sono chiamate tipo immagini 1 2 3 4 potete anche una cosa molto bella adesso vi faccio vedere tra l'altro ritornando al discorso di prima togliamo questo lo mettiamo sotto se noi adesso avevamo una slide esportavamo ovviamente veniva il logo con lo sfondo verde però questo lo dobbiamo togliere dal sole ecco però in questo modo verrà solo il loghetto perfetto poi l'altra cosa che volevo dirvi molto bella ah si un'altra funzione abbastanza carina è che potete anche esportare due formati tipo io voglio anche il logo punto gif e quindi lui te lo creerà anche un logo gif no forse devo mettere una virgola aspetta ecco e voilà un gif e un png poi potete mettere anche un jpeg e questo è quando magari è un po' laborioso diciamo un po' andare a scrivere lì un po' così però magari se uno si organizza facendo delle cartelle già predisposte e non lo so potrebbe essere interessante comunque questo è quanto per questo primi passi photoshop cc nuove funzioni funzioni molto utili ci vediamo la prossima volta ciao ciao